Quando sono entrata per la prima volta negli uffici della Conship a Milano facevo un altro mestiero, ero giovane, ero attraente, non sapevo cosa volevo, pensavo di sapere tante cose quando in realtà conoscevo molto poco, c'era lo stimolo enorme della curiosità, sempre di sapere di più, di conoscere di più, qualcosa che mi appartiene e ho tuttora. Se oggi mi guardo allo specchio e guardo indietro sono sicuramente una persona più riflessiva, più matura, mi rimane la curiosità, e forse più preparata anche a prendermi la responsabilità degli errori che sono inevitabili. Quando si parla di successo, in questo caso parliamo di me, quello che io penso è che il successo è una conseguenza di quello che uno fa. Il mio successo lo dicono gli altri, io da donna con le mie insicurezze, le mie paure, devo dire con la tendenza al perfezionismo non sono mai veramente contenta del tutto. Il successo è un insieme di piccole cose che facciamo quando troviamo le soluzioni ai problemi, è una piccola cosa che ci dà la gratificazione, che ci dà la soddisfazione della giornata, un po' alla volta poi viene definita successo. La nave rosa è stata anche un incubo per me, perché è nata da una battuta, da un'idea a cui non ho dato più di tanto importanza, la battuta tra colleghi. La battuta tra colleghi poi è stata una battuta nel settore nostro dello shipping, linee marittime, colleghi e siamo arrivati a un certo punto quando io mi sono sentita esposta personalmente, ma soprattutto come rappresentante della consipi dell'azienda a doverla fare perché altrimenti avrei attaccato, danneggiato la mia credibilità. Per me questo è un valore assolutamente grande. Dico una cosa, la faccio, non faccio del male, e ho fatto la nave rosa, purtroppo, perché poi ho avuto un grande imbarazzo a rispondere alle domande dei giornalisti, della stampa. Perché l'hai fatto? Perché sono un po' matta. Non so. Una ragazza oggi che magari prende degli spunti da quello che io dico, e pensasse di voler essere Cecilia Battistello, raccomanderei di cambiare idea molto velocemente, perché è vero, successo, si parla di successo, ognuno lo misura al suo modo, ma i sacrifici sono tanti, tutti, le rinunce sono tante, voler essere da un posto, in un posto e poi dover essere un altro, voler essere con una persona e poi magari dover essere con un'altra a causa del lavoro, non sempre è facile conciliare le cose. Dico un'altra cosa, secondo me, anche importante. 50 anni fa il settore dove io mi sono trovata per caso dentro, non c'è più, è cambiato il mondo. Le navi nostre prime portavano 100 contenitori, oggi ne portano 25.600. È un mondo diverso. Ma un consiglio io lo darei alle mie colleghe donne. Oggi il mondo è molto più aperto, anche alle donne che vogliono mettersi in discussione, entrare anche in quei settori, soprattutto shipping, dominato dai famosi uomini. Oggi forse è più facile per una donna, grazie alla comunicazione, ai sistemi che abbiamo, i media. Un piccolo consiglio. Il lavoro lo impariamo tutte, una lo impara una settimana, una in un mese lo impariamo tutte. Mai sfidare l'uomo, sempre onorarlo, rispettarlo. Portatevi dentro il bagaglio con scritto umiltà a lettere maiuscole. L'uomo ha più bisogno di noi nel lavoro che noi dell'uomo, perché noi siamo intuitive, siamo più sensibili, meno razionali. Ma questi ingredienti, che hanno anche gli uomini per carità, messi assieme fanno il minestrone migliore al mondo. Mai aspettatevi riconoscenze o chi è più bravo. Non c'entra, si deve lavorare assieme. Rispetto, prima cosa.